Buonasera e bentrovati con Mercati che fare. Dall'inizio dell'anno c'è euforia e effervescenza a Piazza Affari. Stasera cercheremo di capire che cosa sta succedendo e soprattutto quali sono le tematiche che stanno portando la Borsa italiana a più delle altre a crescere notevolmente. Lo faremo con Paolo Zucca, giornalista di Economia e Finanza. Grazie per essere tornato qui a Mercati che fare. Paolo, grazie a voi per l'invito. Buonasera. Allora, vediamo subito un servizio fatto per noi da Paola Rota che ci introduce sui temi della giornata. Nei primi sei mesi dell'anno i mercati azionari hanno dato soddisfazioni. Il Morgan Stanley World, l'indice delle borse mondiali, ha messo a segno un più 11% e la capitalizzazione è cresciuta di 11.000 miliardi di dollari. Una ritrovata fiducia che ha spinto molte aziende a scegliere la borsa per raccogliere nuovi capitali attraverso le cosiddette IPO, acronimo inglese, che identifica l'offerta pubblica di titoli di una società che si quota per la prima volta. Anche a casa nostra in questo ambito il segnale è positivo. Il primo semestre 2017 ha registrato 11 nuovi ingressi rispetto ai 7 dello stesso periodo del 2016 con una raccolta di 560 milioni di euro. E il mercato più dinamico è quello dell'AIM Italia, il segmento di borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese pronte per il debutto a piazza affari. Un mercato sempre più liquido, la cui capitalizzazione raggiunge i 4 miliardi con un numero medio di scambi giornalieri più che quadruplicato. A questo dobbiamo aggiungere la performance positiva del suo indice, il FUZI-AIM, che segna un più 23% da inizio anno, l'aumento della qualità delle società quotate e le raccolte in deciso aumento, grazie soprattutto all'introduzione dei PIR, che hanno nelle piccole e medie imprese il loro principale universo di investimento. Un quadro più che positivo che lascia ben sperare. Il listino delle nostre PMI, grazie a questo dinamismo ritrovato, potrebbe replicare le altre esperienze internazionali di successo, Francia e Gran Bretagna in primis. Bene Paolo, avevo parlato di effervescenza all'inizio di trasmissione, mi sembra che i numeri lo testimoniano. Cosa sta succedendo, non solo in Italia, perché un po' in tutto il mondo c'è una crescita notevole dei mercati azionari, ma per la prima volta da qualche anno a questa parte non siamo più il fanalino di coda? La prima osservazione da fare è che c'è una liquidità che sta arrivando dai PIR, ma c'è una liquidità in generale che favorisce anche l'investimento azionario. Quindi in generale ci sono dei soldi che stanno cercando della remunerazione. Abbiamo sempre detto in questa trasmissione, in tutti gli appuntamenti, che una quota di azionario è utile per un portafoglio, quindi chi non ha azione in portafoglio deve in qualche modo porsi questo problema o questa opportunità. E quindi si guarda con maggiore attenzione alle azioni. C'è una fiducia rinnovata da parte anche degli investitori, da parte delle famiglie, su un clima che può essere migliore di fine della grande crisi, del grande asciutto. E quindi in qualche modo la borsa ne beneficia. Sicuramente l'effetto PIR che viene annunciato in questo servizio è notevole e non a caso ne sta beneficiando le piccole e medie imprese. Ecco, vediamo anche questo grafico che è uscito proprio sul tuo giornale, sul Sole 24 Ore, nell'inserto del sabato, plus che è un inserto a cui hai dedicato molte attenzioni tu nella tua storia giornalistica, che ci fa vedere come l'indice della borsa italiana abbia veramente performato molto meglio dall'inizio dell'anno rispetto anche alla borsa americana e all'omologo indice europeo. A dimostrazione che la liquidità, come tu dicevi, che sta arrivando sui mercati, sul mercato italiano, sta trainando un po' tutto il sistema Italia. Direi di sì, ricordiamo anche per correttezza che erano stati anni di forte depreciamento della borsa italiana, quindi stiamo assistendo a un recupero, a un recupero importante che lascia prospettive notevoli per i prossimi mesi, nonostante sia andando in zona elettorale. Però anche gli appuntamenti elettorali, quando sono ben gestiti, quando sono in scadenza naturale non sono traumatici, i mercati vanno per la loro strada, pur sapendo che la variabile elettorale c'è. Quindi in qualche modo questa presenza di liquidità e questo ritorno di fiducia sono due elementi positivi che sono il contesto migliore per poter investire con le attenzioni del caso, perché tu hai citato Plus24, che è un prodotto rivolto ai risparmiatori, che invita a guardare la merce in vetrina, se posso usare questo termine e poi scegliere naturalmente le merci migliori. Ecco, facciamo un po' un'analisi a proposito di merci migliori, perché si parla di possibilità di entrare direttamente sul mercato azionario, come dicevi tu in apertura, comprando titoli direttamente, e ce ne sono sempre di più sul mercato italiano, stanno crescendo le quotazioni, le IPO, come abbiamo sentito nel servizio di introduzione della trasmissione. Poi si può entrare sul mercato attraverso il risparmio gestito, quindi attraverso qualcuno che cerca per noi la soluzione migliore, e poi oggi ci sono i peer. Ecco, quale strada seguire? Cosa deve guardare il risparmiatore? Storicamente, lo dico guardando in telecamera senza problemi, noi abbiamo detto che un privato che lavora, che ha i suoi impegni di famiglia, che ha i suoi impegni anche di svago, perché anche questo ci vuole, fatica a tenere un'informazione adeguata su tutte le azioni quotate, anche su un gruppo di azioni ristretto. Quindi, attenzione, se vogliamo fare la strada dell'investimento diretto, bisogna sapere che il tempo ha a disposizione. Anche perché il rischio di essere avvolti dall'effetto delle grosse crescite di alcuni titoli in questo momento, anche a piazza affari, titoli anche di piccole e medie imprese, che con tutta la liquidità che sta arrivando stanno crescendo, qualche specchietto per le allodole rischia di esserci. Beh, l'abbiamo visto, non bisogna andare lontanissimo, all'anno, diciamo, del 1999-98, non ci fu la bolla internet, si comprava tutto, e poi abbiamo visto che dal 2000 in poi, invece, ci sono state delle sorprese negative. Quindi, attenzione, non è facile scegliere il titolo, non è facile poi poterlo seguire, bisogna avere tempo a disposizione. La strada che noi abbiamo consigliato da sempre, su Plus24, ma a coloro che si occupano di risparmio non lo dico, è di affidarsi a mani esperte, che vuol dire, però, saper colloquiare con chi è esperto, con un gestore. Quindi, questo non è una delega in assoluto, bisogna saper colloquiare e sapere anche far valere le proprie ragioni. Quindi, il risparmiatore deve fare la sua parte, deve informarsi, non ci sono vie di mezzo, non puoi delegare in toto il gestore, pur avendo la piena fiducia. È chiaro che in questo momento c'è molta offerta di titoli, bisogna andare a vedere, innanzitutto diamo qualche indicazione operativa, quante volte viene prezzato il titolo, quante volte viene fatto pagare rispetto agli utili. E quando parlo di utili, parlo di utile caratteristico, cioè sviluppato dalla società per l'attività propria, non perché ha venduto un immobile, se no sarebbe troppo facile fare un utile mentire. Per le capacità dell'azienda di saper determinare il business che sviluppa. Però io tornerei al confronto poi tra il risparmio gestito e il PIR, perché rispetto al risparmio gestito di cui abbiamo parlato tantissimo, perché PIR, poi i piani individuali di risparmio, sono comunque risparmio gestito, lì c'è una chiara indicazione di investimento. La durata, la quantità di denaro, il tipo di mercato in cui si va ad investire. Quindi è un'educazione molto forte, anche se vogliamo dal punto di vista legislativo. Beh, c'è anche un beneficio fiscale notevole nei PIR, che è un vantaggio che il risparmiatore deve saper raccogliere, e poi un investimento di medio termine, quindi stiamo parlando di più anni. Non è un investimento mordi e fuggi. i PIR hanno avuto un grandissimo successo, i piani individuali di risparmio, si conta di raccogliere circa 10 miliardi nel corso dell'anno, e siamo già a buon punto. Anche lì bisogna avere un'informazione adeguata, fare attenzione, diciamo così, a chi ci si rivolge, però indubbiamente è una grande prospettiva, non soltanto per il risparmiatore, ma anche per l'economia. Credo che possa essere un beneficio per le piccole e medie imprese, è un prodotto nuovo, è un settore nuovo, quindi va seguito, ci saranno degli aggiustamenti da fare nel corso d'opera, ma questo è normale quando si presenta un percorso nuovo, è una prospettiva collettiva di investimento per le piccole e medie imprese, l'economia ne ha molto bisogno. Ecco, noi abbiamo sentito nel servizio che si faceva riferimento a quello che è già successo in Inghilterra, in Francia, dove i piani individuali di risparmio con nomi diversi sono stati attivati dai rispettivi governi di quei paesi già da qualche anno, nel 99, se non vado errato, in Inghilterra, un po' in tempi più recenti invece in Francia. Recentissimo invece è stata l'attivazione, dei piani individuali di risparmio in Giappone. In Giappone per tanti aspetti è simile soprattutto dal punto di vista del risparmio al nostro paese. Allora, seguiamo questo servizio per capire dal 2014 a oggi cosa è successo in casa nipponica. I piani individuali di risparmio continuano la loro corsa. Le più recenti stime prevedono una raccolta di oltre 67 miliardi di euro in cinque anni. In cosa si tradurrà questo afflusso di capitali per il nostro paese? Diverse esperienze ci hanno preceduto. Canada, Gran Bretagna e Francia, ad esempio. Ma per analizzare una realtà più simile alla nostra, ecco il Giappone. Distante da noi per cultura, ma vicino per elevato debito pubblico, economia stagnante, forte propensione al risparmio e deciso invecchiamento della popolazione. Dall'introduzione dei Nisa, questo è il nome dei peer del sollevante, nel 2014, il Premier Abe è riuscito a ridare impulso ai mercati e rilanciare la capacità produttiva del paese. In tre anni, le raccolte hanno raggiunto l'equivalente di 78 miliardi di euro e oltre 250 nuove aziende hanno scelto di quotarsi. Borsa italiana ne conta attualmente nel suo complesso 321. Basta fare un rapido calcolo per capire che l'effetto peer potrebbe davvero diventare sinonimo di rivoluzione. Ecco, se tu parlavi di 10 miliardi quest'anno e le fonti più accreditate parlano di una settantina nei prossimi 5. Ecco, il Giappone, che è nato dal punto di vista peer nel 2014, abbiamo visto i dati, i 78 miliardi, quindi è abbastanza in linea con le previsioni. Se la capitalizzazione di Borsa italiana è di 500 e rotti miliardi in questo momento, 70 miliardi di nuovi afflussi rappresentano il 12, il 13%, veramente tantissimo. Tanto è vero che paradossalmente ci sono poche società rispetto alla mole di denaro che sta arrivando. Però ne stanno arrivando delle altre. Ne stanno arrivando delle altre e bisogna fare attenzione che quando arrivano veramente tante società a essere quotate, arriva un po' di tutto, arrivano società molto buone, società buone, società che hanno grande prospettiva, arriva anche qualche società magari che aveva altri tipi di problemi. Ma qui naturalmente toccherà a chi farà la selezione, poter scegliere le migliori imprese. Ecco perché, come dicevi tu, meglio il gestore che da solito. Assolutamente, perché mi sembra veramente difficile entrare in questi meccanismi di imprese anche medio-piccole, dove magari il manager e anche il proprietario, dove le figure sono molto raggruppate, dove le aree di business magari sono molto particolari. Quindi, come dire, è un lavoro da professionisti. In generale, parlando al di là del proprio investimento personale, credo che vada anche sottolineato che queste aziende che si sviluppano creano lavoro, perché altrimenti noi abbiamo una massa di risparmio veramente importante. In Italia, per fortuna, ne abbiamo ancora, l'abbiamo anche protetta abbastanza, nonostante le crisi bancarie, però non affluisce all'economia, non crea posti di lavoro. Questo è un problema poi per le famiglie, non creano nuovo risparmio. Ecco, nuove imprese che si quotano significa nuovi flussi di lavoro, nuovi stipendi, nuove tasse, per cui anche l'aspetto fiscale che è stato determinato dalla scelta del governo finirà per essere in qualche modo riequilibrato proprio da questo flusso positivo di cui parlavi. Assolutamente, aggiungo anche un altro particolare che magari a chi ci ascolta in questo momento può sembrare marginale, ma anche le imprese imparano a essere trasparenti, a programmarsi nel corso degli anni, non puoi avere un grande dividendo un anno e zero l'anno successivo, quindi di avere un business che ti regga per 10, 15, 20, 30 anni. C'è un aspetto che abbiamo sentito nel servizio sul Giappone, l'invecchiamento è un problema anche della nostra società italiana. Il PIR può essere visto considerato anche l'effetto moltiplicatore che non esiste dell'imposizione fiscale del 26%, può essere visto anche come uno strumento di accantonamento nel lungo periodo per sistemi previdenziali, per lasciare soldi ai figli quando ne avranno bisogno? Direi proprio di sì, la modalità di sviluppo del PIR è quella che guarda al medio e lungo periodo, quindi in qualche modo si dà una spinta speriamo significativa alla creazione di nuovi posti di lavoro, questo è importante per una famiglia e per un nucleo familiare, ma può essere programmato anche per l'ultima parte diciamo della propria vita per dare poi ai propri successori una fase tranquilla di... Anche perché sono essenti e tassi di successione oltre ad essere esenti dai capi è giusto dirlo una volta tanto diciamo così che c'è un beneficio fiscale significativo che sta spingendo i PIR al di là di questa funzione che è anche di travaso di risparmio dell'economia, quindi... L'unico dubbio che ci resta è perché non l'abbiano attivati prima, no? Considerato che copiare diventa semplice, Paolo. Sì, c'è un altro dubbio che lo dico soltanto in poche parole è la capacità poi dei gestori in questa massa di proposte che vengono fatte di selezionare veramente il meglio perché se è difficilissimo impossibile per un privato anche per i gestori riuscire ad avere un'attenzione su queste società e su questi titoli vuol dire avere un'attenzione su quello che succede in queste aziende però è il loro lavoro per questi aspetti paghiamo delle commissioni anche per questo sceglieranno sicuramente il meglio. Ecco, il mercato delle piccole e medie imprese è sempre stato un po' visto negativamente perché poco liquido difficile avere tanti scambi bastava un piccolo scambio per far crescere molto o far decrescere molto il valore di un'azione abbiamo sentito dal servizio iniziale che questo mondo sta cambiando e con tutte le IPO cioè con tutte le quotazioni che si stanno determinando rispetto all'articolo che abbiamo visto del Sole 24 ore ce ne sono state già altre 6 o 7 in questi ultimi giorni il mercato potrebbe cambiare completamente. Allora innanzitutto una società che arriva una piccola e medie imprese che arriva all'IPO lo fa per rafforzarsi per avere mezzi freschi e per crescere e quindi in qualche modo anche queste società dovrebbero essere di dimensioni diverse nei prossimi anni se il percorso sarà virtuoso come tutti ci auguriamo. La liquidità del titolo è un problema per la liquidità del titolo ricordiamo quando pochi scambi possono determinare una variazione di prezzo notevolissima quindi ci auguriamo che piccole e medie imprese diventino medie imprese e grandi imprese e nascano altre e diano lavoro ad altri fornitori. Smetteremo di vedere aziende francesi o di altri paesi che capitalizzano gli effetti positivi dei prodotti italiani comprando chi li produce? Non lo so se questo sarà un meccanismo finale sicuramente si rafforza un tessuto di piccole e medie imprese che è stato importante importantissimo vitale molto agile italiano che si possa diventare passare a un sistema di grandi imprese non lo so anche culturalmente per la nostra impresa però questo è l'auspicio poi che coesistano tutti grandi imprese medie imprese piccole imprese artigiani attività singole C'era anche il problema che il finanziamento alle imprese dell'Italia per l'80% è sempre stato delegato al sistema bancario la crisi del sistema bancario e tutti i parametri e tutti i vincoli che i nuovi regolamenti definiti di Basilea visto dove sono state prese le decisioni stanno imponendo alle banche doveva trovare altri stimoli altre fonti di finanziamento per le imprese avere il finanziamento del mercato come in questo caso attraverso i mercati finanziari e con altre formule è indispensabile anche per le stesse banche altrimenti avrebbero avuto una concentrazione di rischio notevole ricordiamo poi che molte imprese stanno cercando formule alternative di finanziamento Confindustria sta facendo con il percorso Elite un giro per l'Italia per individuare queste imprese quindi ci deve essere il canale bancario e ci deve essere il canale del mercato per andare sul mercato per chiedere finanziamenti a investitori e anche a famiglie private bisogna presentarsi in maniera diversa quindi anche un problema di trasparenza e di liquidità e finalmente anche il risparmio degli italiani potrà diventare più produttivo soprattutto in un periodo in cui con tutte le attenzioni del caso naturalmente soprattutto in un periodo in cui la redditività dal punto di vista dei titoli di Stato in cui eravamo stati abituati per anni non c'era più si diventa un po' meno rentiese possiamo dirlo più o meno rendimento diciamo così e si diventa un po' più partecipi più investitori più investitori sì è un passaggio delicato ha fatto con adeguati aiuti però sì stiamo passando a una formula del genere credo che il beneficio complessivo si dovrebbe vedere nei prossimi anni in termini di occupazione soprattutto Paolo 10 secondi per il consiglio sotto l'ombrellone proprio 10 secondi beh io direi di informarsi sembra una banalità è bello leggere un romanzo è bello leggere i quotidiani bello ascoltare la radio guardare internet dedichiamo un po' di tempo all'informazione perché anche quando decidessimo di affidarci a un gestore è importante saper colloquiare con un gestore grazie a Paolo Zucca per averci accompagnato questa sera grazie a voi per averci seguito Mercati che fare torna come al solito sabato prossimo arrivederci a tutti buona serata grazie a tutti